da dove partiamo stasera da dove partiamo stasera ce n'è per tutti intanto ce n'è per i tifosi prima di tutto prima di tutto ce n'è per i tifosi che quando vinci un derby sei giustificato per sempre anche poi dovessi perdere contro una squadra di serie c tu sei giustificato questo è all'allenatore che evidentemente abbiamo abbiamo trovato qualcun altro che fa le altalene ai giocatori alla dirigenza e a tutto quello che poteva succedere questa partita partiamo dal dal punto focale aveva punto focale il punto focale la fiorentina stasera è la fiorentina che ha fatto una partita della madonna che nonostante tutto ha fatto i suoi errori anche perché il milan oltre al gol che ha fatto ha avuto parecchie occasioni per poterne fare un altro che come sempre come sempre non ha sfruttato e poi e poi ragazzi veniamo al troppe cose in testa da dire veniamo a questa gestione terribile partiamo da quest'estate partiamo che tu avevi ha ecceduto due giocatori 2 1 l'hai regalato alla juventus l'hai regalato sta seminando il panico in campionato in champions league ci fosse anche la la coppa di tu ma puttana giocherebbe bene pure lì l'altro l'hai regalato a loro gioca nel suo ruolo naturale chissà perché chissà perché giocando nel suolo naturale non solo gioca bene ma ti fa pure gol e questa è la premessa la premessa al disastro la partita parte male parte male parte con la fiorentina che ti letteralmente appoggia coglioni in testa si trova un calcio di rigore e lo sbaglia e lì viene il primo mettiamo il primo pallino mettiamo primo pallino il primo pallino recita che quando una squadra la sua squadra avversaria ha una grossa occasione e più grossa occasione di un calcio di rigore non so cosa ci possa essere tu sei obbligato tu se fai un certo tipo di mercato tu se dichiari continuamente in conferenza stampa di voler vincere il campionato cosa qui non ha mai creduto nessuno tanto meno io o almeno io quando una squadra avversaria sbaglia il calcio di rigore tu fai gol tu ribalti la partita subito non che passano dieci minuti e te lo fanno lo stesso sbagliano il calcio di rigore tu fai a fare gol punto e questa è la prima io poi ai rigori del Milan ci arrivo in fondo perché credetemi che i rigori del Milan sembrano diciamo la cosa più assurda e importante e rilevante della partita ma credete a me sulla cosa meno importante perché dietro ai rigori c'è una prestazione che è stata oscena una delle più brutte viste in tre anni riprendo il discorso appena fatto se è una squadra che ha fatto un certo tipo di mercato se è una squadra che vuole colmare il gap con l'Inter se è una squadra che ripetutamente dice andiamo a vincere lo scudetto e pipapapipipipipapà non te ne devi fregare un cazzo se l'avversario ti prepara la partita bene l'avversario può essere la Fiorentina può essere il Lecco può essere il Milan futuro che vi siete accordati a tavolino può essere Real Madrid può essere anche Scapoli ammogliati Tu Devi Giocare Bene Punto Non deve fregare un cazzo Se l'avversario l'ha preparata bene L'ha preparata male Tu Devi giocare Per vincere Non ci son cazzi Invece Solito atteggiamento remissivo Possesso palla sterile Retropassaggi Falli 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 Palle perse 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 Ragazzi io Guardando le altre partite di Serie A Che poi se non ci faccio video Non vuol dire che non le guardi Ma guardando altre partite di Serie A Dalla prima squadra All'ultima Tolto il Milan Io delle palle Regalate All'avversario Come le regala il Milan Non le regala Nessuno Ma chi è ultimo in campionato? Il Cagliari No non è il Cagliari Chi è l'ultimo? Non ne ho idea Non ne ho idea Di chi sia Di chi sia l'ultimo in classifica Ma poco importa Perché poco importa La Tu Tu Devi Devi Giocare per vincere Primo tempo 1-0 Si va al secondo Parte con Col secondo calcio di rigore Che vi ripeto Ci si arriva dopo Trovi il gol Dell'1-1 E cosa fai? Prendi la partita in mano Provi a vincerla Col cazzo! Cosa fai? La consegni All'avversario Questa era una cosa che facevamo l'anno scorso E che facevamo anche l'anno prima Trovi il gol del pareggio Smetti di giocare Già lo facevamo col gol del vantaggio Più grave Più grave Col gol del pareggio Col gol del pareggio Non viene mai sfruttata Questa occasione Mai Mai nella vita Cambi Hai fatto due cambi Due cambi Due Perdi Hai fatto due cambi In 90 minuti E un cambio è stato Il giocatore che ti ha fatto gol Cioè Dovesi giocare in Champions League Mercoledì Ti direi Boh vabbè Hai fatto pure bene Cioè Due settimane di sosta Vai A togliere l'uomo Che ha fatto gol Questa Questa cosa La lascio a voi Ditemi se Secondo voi Sul 2 a 1 Tu puoi andare a togliere Il migliore Della tua squadra Ditemi se è normale Perché se è normale Vi chiedo scusa E E E Patti chiare amicizia è lunga Altrimenti Non è normale Poi Veniamo adesso Come promesso Al capitolo rigori I rigori Si sbagliano Poi Sbagliarne uno ci sta Sbagliarne due È grave È grave Perché C'è già stata una partita Quest'anno Dove sono stati sbagliati I due rigori È stata quella Col Bologna Il 29 gennaio Il 29 gennaio Se non vi ricordate male Vuol dire che Questi tipi di situazioni I calci di rigore Non vengono preparati Non vengono considerati Non viene fatto un cazzo Ragazzi Non va bene Non va bene E adesso Per chiudere il cerchio Vi dico che L'avversario Ha giocato bene Ha giocato bene Perché La Fiorentina Cioè Avessimo perso La Fiorentina che gioca male S'avrebbe stata ancora peggio Però L'abbiamo giocato male Hai rischiato Di pareggiare La partita Anzi Non hai rischiato Di pareggiare Perché dopo Do 1 Ti hanno sotterrato Però Hai avuto Le occasioni Per non perdere Questa partita Per metterti Il risultato In una posizione Tale Da al massimo Pareggiarla E non solo Hai giocato male Ma c'hai anche L'aggravante Le occasioni Più nitide Non le hai sfruttate Questa è la cosa Più grave Due calci di rigore Sti cross Tiri sottoporta Tiri sterili Contropiedi Sbagliati In partenza Falli Inutili Così Hai perso La partita Io ve lo dico In conclusione Proprio per chi È arrivato A questo punto Del video Io dopo Il derby Vi ho voluto Dare una seconda Occasione Ve l'ho voluta Dare Perché io Quello che pensavo Fino alla partita Con Liverpool Onestamente Non ho mai smesso Di pensarlo Qua Ferirò L'orgoglio Di molte persone Ma non ho mai smesso Di pensarlo Però Ci ho voluto Mettere una pietra Sopra Mi sembrava Doveroso Metterci una pietra Sopra Perché Hai vinto il derby E finché L'onda derby Diciamo Finché cavalcavamo L'onda derby Ho voluto Accantonare la cosa Ma l'ho accantonata Perché sapevo Sapevo che Prima o poi L'avrei dovuta Ritare fuori Perché I trofei Che vorresti Tanto vincere E i trofei da vincere Non è la Coppa Italia Non è la Supercoppa I trofei da vincere Sono il campionato Trofei più grandi Che purtroppo Al momento Sono per le squadre italiane Totalmente inaccessibili Pardon Le prestazioni così Non devono Mai Esistere Ma neanche Una all'anno E siamo già Tre Siamo a tre Con quella coltoria Torino E quella col Parma Ragazzi Vi voglio Vi abbono Quella con la Lazio Vi abbono Quella con la Lazio Va bene Anche se è stata Vergognosa Pure quella Siamo già a tre E siamo al 6 di ottobre Quanto la vogliamo Portare avanti Questa storia Ditemelo Quanto la vogliamo Portare avanti A me non ci mettiamo Un po' l'animo in pace Perché ho le altalene Gli alti e bassi A me Se mi batti L'Inter E magari la prossima Mi perdi con l'Udinese Non so con chi Chi cazzo Abbiamo la prossima Abbiamo proprio L'Udinese Abbiamo l'Udinese Io non ci faccio Un cazzo Io voglio La cazzo Di continuità Prima a livello Di gioco Perché se tu hai la continuità A livello di gioco Stai sicuro Che al 100% Al 120% Avrai Anche la continuità Nei risultati È matematica E non scappi Ci vediamo Per la live reaction domani Su TikTok E su YouTube Grazie a tutti